benvenuto nella rubrica per l'act per iniziare la tua settimana in modo consapevole e significativo con la mindfulness e l'act abbiamo avuto periodi di pioggia molto molto forte e può essere una metafora delle difficoltà improvvise che arrivano nella nostra vita alcune anche inaspettate e quando siamo alle prese con difficoltà e problemi la vita sembra oscura coperta nuvolosa triste non vediamo la luce in fondo al tunnel ci sentiamo bloccati e incapaci di trovare una via d'uscita ma in realtà c'è sempre una via d'uscita o meglio c'è sempre una via per passare attraverso le difficoltà anche se non la vediamo subito infatti come l'arcobaleno che appare dopo la pioggia la speranza può fare capolino nelle situazioni più difficili questo ci ricorda che se ci concentreremo su cosa conta per noi e se ci impegniamo attivamente con le nostre azioni anche in presenza delle difficoltà alla fine troveremo quella quella luce tanto attesa troveremo l'arcobaleno se stiamo fermi e siamo dentro la nuvola di pioggia non lo vediamo l'arcobaleno bisogna iniziare a muoversi in linea con i nostri valori possiamo iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel l'arcobaleno che ci guida e ci fa capire quali sono le azioni che possiamo continuare a fare iniziare a fare ma per trovare questo arcobaleno cosa dobbiamo fare guardare al nostro interno e capire quali sono i nostri bisogni e desideri e valori più importanti le cose significative che ci danno un senso di realizzazione di significato di soddisfazione e quando ci concentriamo su quello che conta per noi siamo in grado di vivere una vita piena di significato anche le situazioni difficili e come facciamo a capire quali sono le cose importanti per noi questi nostri valori quando siamo nella tempesta sono proprio quelle emozioni spiacevoli che stiamo provando quel grigiore che a volte proviamo perché stiamo cercando di non sentire le emozioni in realtà se lasciamo spazio alle nostre emozioni a tutte quelle che viviamo quindi a tutto lo spettro a tutti i colori delle emozioni ecco che possiamo avere il nostro arcobaleno quindi aprendoci alle emozioni che stiamo provando a tutte quelle piacevoli quando ci sono a quelle spiacevoli quando ci sono ascoltarle capire qual è il loro messaggio ci dicono cosa conta per noi quindi quando troverai l'arcobaleno questo è il momento importante non è andare subito a preoccuparti della tempesta successiva o del tunnel successivo ma goditi e apprezza la magia della vita che ti circonda se questa perla ti è stata d'aiuto iscriviti al canale per ricevere le prossime